Anche se non sei minimalista, penso che possiamo concordare sul fatto che avere meno cose rende la vita più facile e per avere meno cose è opportuno fare un decluttering periodico. Ma fare un decluttering non è così semplice e scontato come si può immaginare. Quindi, let's get started! Ciao a tutti e bentornati su questo canale YouTube. Ciao Valentina, canale dove parliamo di eco-minimalismo. Nel video di oggi voglio condividere insieme a te alcune idee che io stessa metto in pratica quando faccio del decluttering che mi aiutano a liberare i miei spazi in maniera molto più semplice abbracciando la filosofia del letting go, del lasciar andare. Ma prima di partire con la primissima idea voglio condividere con te una novità ovvero che a brevissimo ci sarà un giveaway all'interno di Instagram quindi mi raccomando non perdere questa opportunità al momento non posso dirti di più ma ti suggerisco di seguire la mia pagina Instagram per non perderti questa opportunità favolosa. Ma partiamo subito appunto, lo ripeto, con la primissima idea ovvero mettilo a calendario. Questa è una cosa importantissima che credo tutti noi dobbiamo seguire soprattutto quelle persone che hanno difficoltà ad iniziare con il decluttering mettiamolo a calendario prendiamoci dieci minuti il martedì e il giovedì per fare il decluttering di quel cassetto o della scrivania non un minuto di più, non un minuto di meno ma questo ci aiuterà a semplificarci la vita se invece non abbiamo tempo durante la settimana mettiamo a calendario un'ora o due ore nel weekend in questo modo siamo sicuri di prenderci del tempo da dedicare al decluttering questo è un ottimo modo per non cadere in tentazioni di voler fare altre attività come uscire con le amiche o andare a fare la colazione al bar ma sappiamo, perché l'abbiamo messo a calendario che quel tempo lo dedichiamo a fare un decluttering Consiglio numero due che voglio dare è scomponilo ebbene sì, questo decluttering deve essere scomposto deve essere rotto, deve essere fatto a pezzettini e cosa voglio dire con questo? quando mettiamo a calendario i 10 minuti che vogliamo prenderci per fare del decluttering creiamo una lista delle cose che vogliamo declutterare se io so che ho solo 10 minuti per fare un decluttering di sicuro non posso prendermi l'impegno di sistemare, riordinare, riorganizzare l'intera cucina ma magari posso aprire due cassetti questo ci aiuterà a non farci venire l'ansia all'idea di iniziare a fare questo decluttering ma anzi questo ci renderà più entusiasti, più organizzati devo dire che questa cosa di scomporre e spezzare le attività è una cosa che mi aiuta tantissimo nella quotidianità non solo in campo decluttering e fa sì che le mie idee che girano in testa vengono messe nero su bianco e poi eliminate una volta che le cose vengono fatte è un ottimo modo per tenere track, è un ottimo modo per rimanere positive, è un ottimo modo per non farmi venire l'ansia ed è un ottimo modo per sentirmi soddisfatta delle cose che porto a termine ovviamente consiglio di fare una lista onesta considerato il tempo che mi metto a disposizione quante cose posso fare in quell'arco di tempo dal momento in cui sono capace di rispondere a questa domanda sarò anche capace di rispettare i miei piani anche il fatto di fare del decluttering un po' alla volta ci aiuta tantissimo nell'organizzazione e nel mantenere la situazione in qualche modo sotto controllo e voglio portare in questo caso un esempio molto pratico dopo aver fatto il bucato, quando ormai la biancheria è già asciutta prima di riporla nell'armadio se mi accorgo che un capo l'ho usato talmente tanto che ormai è logorato non la piego e la rimetto nell'armadio certo se la posso recuperare, se la posso aggiustare più che volentieri altrimenti quella deve fare la fine del topo voglio portare un altro esempio se sono in cucina e mi accorgo che quel mestolo che ho usato tantissimo è ormai rotto, rovinato, sta cadendo a pezzi ecco che anche quel mestolo deve fare la fine del topo quindi ecco che facendo un decluttering costante sbarazzandoci delle cose che non possono essere riparate e che per forza devono essere eliminate e cestinate ci aiuterà a evitare di creare una lista lunghissima di quelle cose che vogliamo declatterare diciamo che anche questa è un'idea che io metto in pratica molto spesso perché non mi costa niente, la fatica è pari a zero devo anche ammettere però che è una cosa che non faccio costantemente ci sono dei periodi in cui mi viene meglio e altri periodi in cui mi viene peggio ma ad ogni modo è una tecnica che sicuramente consiglio soprattutto se sei alle prime armi soprattutto se non sai da dove iniziare questa cosa ti darà le primissime soddisfazioni il mucchietto del forse mi piace chiamarlo il mucchietto perché quando mi sbarazzo delle cose creo questo mucchietto ma possiamo chiamarla pila possiamo chiamarla in qualsiasi modo comunque io lo chiamo il mucchietto del forse e il mucchietto del forse è sempre difficile perché è appunto un forse solitamente si tratta di capi o oggetti che abbiamo pagato un bel po' che non vogliamo, non siamo in grado di sbarazzarcene perché ci sentiamo in colpa e questo non aiuta ad ogni modo ci sono due azioni che io consiglio di mettere in pratica la primissima lasciare il mucchietto del forse lì com'è e ritornarci quando ci sentiamo più pronti perché comunque fare un decluttering richiede energia richiede una certa volontà fisica, mentale, psicologica e quindi perdere energie con il mucchietto del forse io non lo trovo, non la trovo un'idea intelligente e pratica e questa è la prima opzione la seconda opzione invece è quella di mettere quei capi quegli indumenti, quegli accessori alla prova cosa significa che invece di nasconderli dietro all'armadio o in fondo al cassetto li tiro fuori mi do un arco di tempo due settimane, un mese quello che è, quello che ti mette più a tuo agio e se in quell'arco di tempo non utilizzi quei capi beh sai già cosa devi fare se invece in quell'arco di tempo riscopri un capo un accessorio che avevi dimenticato beh allora quel mucchietto del forse diventa un sì lo tengo due idee che io trovo interessanti, entusiasmanti mi diverto a fare soprattutto quest'ultima mi diverto a mettere alla prova capi che capita ho abbandonato accessori che non utilizzo nella quotidianità e che mi chiedo se vale la pena tenerli o no insomma vediamo di essere creativi la creatività in questo caso ci aiuta soldi a dio o forse no ecco io credo che questa sia un'altra grandissima difficoltà per tutte quelle persone che hanno il desiderio di fare dei decluttering o del decluttering ma che si trovano in difficoltà a dare via a declatterare, ad eliminare tutte quelle cose che hanno pagato anche un bel po' per acquistarle ecco che qui subentra il sentimento del senso di colpa e di conseguenza il sentimento che ti fa dire non lo butto via, non lo do via, lo tengo ma ecco che lo tieni e viene dimenticato ecco che lo tieni e questo fa aumentare la pila delle cose che hai e che non usi un vero peccato no? però anche in questo caso c'è la soluzione se abbiamo qualcosa che abbiamo pagato tanto e non vogliamo dar via e ci vengono i sensi di colpa perché ci rendiamo conto che stiamo buttando via anche i soldi che abbiamo guadagnato con difficoltà la soluzione è una ed è vendere ci sono tantissime app che possiamo utilizzare per vendere i nostri oggetti, i nostri capi solitamente il processo è abbastanza facile si fa una foto dell'oggetto, si aggiunge una piccola descrizione viene caricato tutto all'interno di questa app e poi chi è interessato ci contatta io in particolar modo qui in Gran Bretagna uso Spock mi sono sempre trovata abbastanza bene ma so che in Italia viene utilizzato tantissimo Vinted però se non sbaglio anche Spock se c'è qualcosa di nuovo, qualche nuova app che hai scoperto italiana fammelo sapere nei commenti qui sotto che come dico sempre è importantissimo condividere queste informazioni altrimenti puoi mettere i tuoi capi, i tuoi accessori all'interno di Facebook Marketplace anche questa è un'alternativa assolutamente valida oppure puoi portare i tuoi capi nei negozi dell'usato so che ci sono dei negozi dell'usato che quando vendono quello che hai portato ti chiamano, ti contattano e ti danno una percentuale del ricavato so che molto spesso questa ultima opzione non ti fa guadagnare e recuperare tanti soldi quanti quelli che potresti recuperare con un po' di impegno in più mettendoti appunto sulle diverse app però è sempre un'alternativa altro consiglio che voglio darti è si deciso a volte tentennare non è la soluzione a volte essere decisi è la soluzione migliore e se prendendo in mano quel capo, quell'oggetto non hai quella sensazione di sì lo devo tenere assolutamente allora ecco che perché metterlo nel mucchietto del forse di subito no si deciso con la tua azione so che non è facile perché dopo aver nominato il mucchietto del forse e il sentimento del senso di colpa questo si deciso entra quasi in contraddizione con quello che ho appena detto ma ci sono dei momenti della nostra vita della nostra giornata dove improvvisamente anche le persone più indecise si sentono misteriosamente decise sono capaci di prendere una decisione così lì su due piedi e a volte quella è la cosa giusta da fare per diminuire il tempo che mettiamo a disposizione per fare un decluttering e diminuire il consumo di energia che andiamo ad utilizzare per fare un decluttering quindi si deciso ad ogni modo anche in questo caso voglio mettere i puntini sulle i ricordiamoci sempre che il decluttering ci deve comunque vedere in qualche modo diminuire lo spreco e al riguardo ti rimando a questo video qui perché essere deciso non vuol dire creare consumare e sprecare di più quindi anche in questo caso il decluttering deve essere fatto assolutamente con intenzionalità ti rilascia questo video appunto snellisci e alla parola snellisci sorrido perché proprio l'altro giorno mi è capitato di aprire l'armadietto delle spezie e mi sono accorta di trovare doppioni confezioni aperte mezzi usate che senso ha quindi ecco anche in questo caso ti consiglio di snellire di prendere tutti quei doppioni nel mio caso appunto i barattolini delle spezie ma questo vale anche per i detersivi i saponi cosmetici i medicinali insomma tutte quelle confezioni aperte e non finite elimina le non ha senso quello crea disordine quello crea un accumulo di cose che non ci servono va bene avere i doppioni di quelle cose che utilizziamo più spesso ma vediamo di non esagerare quello che ho fatto è stato prendere nel mio caso le due confezioni di spezie mezze aperte e non aperte e non finite mettere tutto dentro una un'unica confezione ecco che quel barattolino che tra l'altro era di vetro l'ho conservato da un'altra parte ma quello un altro discorso intanto ho messo ordine all'interno dell'armadietto spezie e come ultimo punto ultimo ma non per importanza è capire cosa ci guadagno nel fare del decluttering e solitamente fare del decluttering non è solo per avere la casa perfettamente ordinata o quel cassetto perfettamente organizzato la nostra casa per fortuna non deve finire in nessuna delle riviste più famose ma lo facciamo per recuperare tutti quegli spazi che abbiamo perso lo facciamo perché ci rende più veloce prepararci alla mattina ci rende più veloce riorganizzare la casa ci rende più veloce riordinare la casa quando sarà necessario quindi il decluttering deve essere visto proprio come un aspetto pratico della vita che ci aiuta a semplificare e a migliorarci bene dunque queste sono le mie idee su come affrontare un decluttering in maniera più tranquilla senza angoscia se ovviamente altre idee che vuoi condividere e pratiche che hai messo in pratica che hanno funzionato fammelo sapere nei commenti qui sotto ovviamente se non l'hai ancora fatto ti invito a lasciarmi un like di supporto e di iscriverti al canale attivando la campanella delle notifiche ti ricordo inoltre che se ti piacciono i miei contenuti e vuoi offrirmi un caffè virtuale ti lascio il link di coffee qui sotto in descrizione nel frattempo ti auguro un buonissimo weekend e un decluttering strepitoso un bacio ciao